Ciao a tutti ragazzi e bentrovati su Crystal Cross Gaming con una nuova puntata di The Last of Us. Allora ragazzi, stiamo continuando a procedere, abbiamo quasi raggiunto il ponte e ci siamo trovati di fronte per l'ennesima volta i cacciatori, ma stavolta c'è anche una cavolo di camionetta militare e questo non è bene. Decisamente no. Ovviamente non possiamo fronteggiarla in nessuna maniera. L'unica possibilità è aggirarla. Forse una bomba fumogena. Ci si potrebbe pensare, effettivamente. Così riusciamo ad andare dall'altra parte. C'è qualcosa qui? No. Mi sa che la bomba fumogena è l'unica soluzione. Vabbè, se no altro proviamoci. Via. Wow. No. Sono scappati fuori di nuovo. Oh, che cazzo. Bastardo. Che miseria ladra, sì. Chi lo dici? Tanti ce ne sono ancora. Sembra nessuno? Vabbè? Vabbè, è vero? Ok. Fammi esplorare. Mmm. Frutti schifosi. Serio. Ok. Siamo qui, siamo qui, siamo qui. Uh. Niente, la camionetta non demorde. Non demorde assolutamente. Il punto è. Come dovremmo fare adesso? Wow. Ok, no. Ed è anche... fottutamente precisa. L'abbiamo girata, in sostanza. Vabbè. Scappo. Porca miseria. Fammi curare. Ecco qua. Lascielo stare! Per la miseria. Ma si è buggato, quello? Mmm. Eh, senti, lo devo fare. Grande. Ok. Via. c'è una sorta di tempi di ricarica o ma che sei matta miseria maledetta ma che sul serio non c'ho più neanche la camionetta è qui ma guarda tu oltretutto quest'arma è praticamente finita dannazione spero di trovarne un'altra ma a proposito adesso Ellie coprimi ok vabbè convinto te ok e quindi dannazione quindi che faccio ah ok molto bene e non dovrebbe poter sparare così in alto però magari ci sono di abbiamo seminati credo ok tutto bene oh devo andare di qua ma non ci andava e qua non si passa vabbè è che voglio sempre esplorare grazie 5 pillole tesoro ok c'è qualcosa qui no oh molto bene questo ok e di qua ora eh lo spero vivamente sennò siamo nella merda Francis oh guarda cazzo figlia di Joel aspetta Joel fermati guarda lascialo stare calma stiamo calmi tutto ok non sono i cattivi giù la pistola amico picchi forte stavo cercando di ucciderti già anch'io credevo che fossi uno di loro poi ho visto te non l'avessi notato non girano con i ragazzini sopravvive il più forte perdi sangue ah non è niente mi chiamo Henry e lui è Sam se ho capito bene tu sei Joel Ellie in quanti siete? sono tutti morti non lo sappiamo eravamo un bel po' qualcuno ha avuto la brillante idea di andare in città a cercare provviste gli stronzi ci hanno teso un'imboscata e ci hanno dispersi stiamo cercando di uscire da questa merda possiamo darci una mano? Ellie roba tipo all'unione fa la forza ha ragione potremmo darci una mano c'è un nascondiglio non lontano da qui meglio continuare a parlare lì ok facci strada seguitemi d'accordo per la storia dell'arma non preoccuparti anch'io avrei fatto lo stesso probabilmente da dove vieni? da Hartford davvero? ho sentito che laggiù le cose non vanno bene sì ce ne siamo andati perché l'esercito ha abbandonato l'aria quel posto sarà ridotto come pure stile uh molotov potenziate roger esplosione era più esteso di 1,5 volte wow sì perdonami ma questo è il genere di cose che proprio non posso fare a meno di fare vabbè le molotov sono state utili effettivamente quindi bene così sapete nei giochi di solito ci sono cose che ti consigliano di usare che poi alla fine puntualmente non usi facciamo attenzione siamo vicini a uno dei loro posti di guardia stavolta invece ho usato praticamente tutto il che è un buon segnale di un gioco ben fatto intendo ho promesso che mi sarei preso cura di lei è una bella cosa ci siamo bene davvero? ok in tal caso mannaggia i proiettili vita al massimo pillole ok non ho ancora finito pazienza molto bene ma è ben valso un coltello aspettate fate silenzio via dalle finestre andate merda quel cazzo di camion ci tallona da quando siamo arrivati in questo Sam cosa fai? niente lascialo lì il mio zaino è praticamente vuoto la regola sulle cose da prendere non pesa niente la regola qual è? prendiamo solo il necessario esatto ora andiamo quanto è lontano questo posto? ci siamo quasi manca poco ok cosa c'è lì? cosa c'è lì? cosa diavolo è? vabbè ci sarà pure qualcosa no niente Alberto cosa hai trovato? vabbè copici le spalle comunque ci fosse quassù sono andato da un bel po' Sam dove sono gli altri? dovremmo fare un altro giro controlliamo se c'è altro sbrigati Joel va bene da un'occhiata laggiù io controllo questa zona controllo qui attorno vai là sotto allora scopriamo un po' il pattern va che non mi va proprio no 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 ok immagino tu abbia scelto il modo più doloroso Merda, questo mo' gira Merda Prendi questo Dove sta? Oh Ancora uno Dio di costana Bastardo Ce l'abbiamo fatta Non male, veterano Avanti Saliamo sul camion Fermo lì Voglio vedere se c'è qualcosa Che purtroppo sto bastone Cioè, sto Lo cavolo di coso Mi sono rimasti quattro colpi Porca miseria Cosa? Che c'è? Che c'è? Che c'è? Che c'è? Che c'è? Wow Che c'è un po' questa Dio di puttana Ok Adesso Come siamo messi? Eh Tanto non è uno Tanto non gli serviva Tutti di qua Silenzio Fammi prima esplorare Ma ci sarà pure qualcosa qua, no? Niente Ah Aspetta Pillole Già qualcosa E a proposito di pillole E guarda un po' Distanza modalità Ascolto Altre 30 Riduce l'oscillazione La mira Quando usi le armi Non sarebbe male Però per ora La distanza Distanza modalità Ascolto Non è male È stata molto utile Quindi Bene così Quindi Eccoci Benvenuti nel mio ufficio Da quanto tempo siete chiusi qui? Qualche giorno Abbiamo un po' di cibo però Vieni Mirtilli Ne abbiamo trovati un sacco Ne vuoi un po'? No Ehi amico Rilassati Siamo al sicuro qui Non siete scappati Perché? Aspettavamo il momento giusto E? Vieni Dai un'occhiata qui Guarda coi figli di puttana Tutti i giorni si radunano lì sotto E sorvegliano quel dannato ponte Ma di notte Rimangono in pochi di guardia Dobbiamo provarci Dopo il tramonto Una volta andati Proviamo a passare Può funzionare No funzionerà Funzionerà di certo Aspetta 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 Anni un altro Guarda Sono bravo Aspetta Ai Ferita da un mirtillo Ero da tanto tempo Che Sam non rideva così Lei non sembra molto preoccupata Dove stavate andando? Ho sentito che le luci Hanno la base verso ovest Ci uniremo all'anno Già È divertente? È solo che ultimamente Sembra che tutti facciano Affidamento sulle luci Già Magari c'è un motivo Quindi non sai dove siano E lo stai trascinando Per tutto il paese Per trovarli Sai che ti dico? Io mi preoccupo di mio fratello E tu della ragazzina Tranquillo Anche noi stiamo cercando le luci Noi siamo qui C'è una stazione radio militare abbandonata Subito fuori città I sopravvissuti del nostro gruppo Si incontreranno qui domani Tu e lei potete venire con noi Partiamo stanotte Allora faremo meglio a riposare Dice che è ora di andare Ci muoveremo in fretta Ok? Quindi tu resti attaccato a me Come colla Come colla Come colla Capito Bene Bene Ok Pronti? Sì Ok Bene Stiamo vicini Ok? Ok Io faccio silenzio ragazzi Perché non credo che sia il momento di parlare No Vabbè Mia voglia di esplorare e trovare cose Vince sempre Ok Cerchiamo di farli fuori senza fare troppo rumore Ehi Ti seguo Bene Ehi Come va? Cerco di restare al caldo Come va là fuori? Abbiamo eliminato qualche infetto Ma nessun segno dei turisti Molto bene Se c'è qualcosa Madonna se c'era qualcosa Alla faccia Eh Vabbè C'ho tutto quello che mi serve Dannazione Quindi Adesso Uh Attenzione Merda Dove diavolo sei? Bene Pare tu abbia scelto il modo più doloroso Ecco a bastardo Sentiamo l'orecchio potenziato Uh Però Cosa stanno sparando? Hai sentito? Un clicker Sì lo sento ma non vedo niente Aspetta Eccolo Laggiù Peccato Hai visto che roba? Non male Perfetto Ah mi sta dietro E ragazzini? Oh Per l'amor di dio Che cavolo No ma non me ne va di andare a esplorare lì Proprio non mi va Non ne vedo altri Ma com'è possibile? Con chi stava parlando allora prima quello? Ok Vabbè ha senso Però un attimo Ok Controllo peccato Guarda l'attotto Merda Porca miseria E da dove diavolo è arrivato Per sui Maledetto Maledetto Eh Molto bene Come cavolo No Da capo da qui Oh no Vabbè Ehi Come va? Non ci vorrà molto Cerco di restare al caldo Come va là fuori? Abbiamo eliminato qualche Vabbè Vabbè Adesso che comunque so Posso andare molto più spedito Quindi ci vorranno davvero pochi secondi Qui Qualcosa c'è Grazie Grazie A un posto Adesso Merda Dove è andato? I nemici Alcune route le cambiano Merda 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 Ok È andata bene Ci ho avuto culo In questo Decisamente Ehi Hai sentito Un clicker Sì Lo sento Ma non vedo niente Peccato Hai visto che roba? Non male Ok Adesso però Ragioniamo Per questa cosa Mi sa che la cosa migliore da fare è Fare così E Merda Ci hanno individuato Trova qualcosa per nasconderti E uno E due Non sono pochi purtroppo Quindi temo che Prima o poi Capiterà qualcosa di Brutto Oh Oh E questo Non è scappato fuori Porca miseria maledetta Oh Aia Correti 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 Miglio di puttana Maledetto Dov'è che sono? Aia Bene Ce l'abbiamo fatta Eh Beh Non da ridere sta cosa Allora Però aspetta I bambini stanno arrivando Ok E E E Qua c'erano delle cose Che ora Posso decisamente Prendere Perché Questo Me lo rifaccio All'asta grande Vai Grazie Harry Dammi una mano Ok Pronto Caminista 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 Bella Ok Però che adesso Mi sa che è un casino Aspetta Aspetta Oh no Davanti Andiamo Tieni gli occhi aperti Non è ancora finita Ok Controlla A posto Sam Andiamo Su ragazzo Vai Ci sei Merda Forza Forza L'hanno bloccato È lì Vai Vai Oh cavolo Ok Diremolo su Mi dispiace Andiamo Cosa No Che stronzate Ehi Ora Ma fanculo Harry Quindi Restiamo insieme Ma che cazzo Ma che dici Oh 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 Veloce 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 Oh Per l'amor Di Dio Una bella domanda Ragazza Ok Bene Adesso Per la miseria Dividetevi Potrebbero passare Di qui Dove Ho Partato Ma Vai Affanculo Può essere che non Sì che non Ragazza Tu sei una pro Però Insomma Oh Non è che Oh porca miseria Sì Esattamente Né che Nel altro Di cavolo sono Oh Di nessuno Ma che davvero Fatemi un attimo esplorare Purtroppo sto tubo C'ha solo tre colpi Quindi ne posso eliminare Solo un altro Ok No vabbè Voglio continuare Facciamo la puntata lunga Oggi Eh vabbè Capito L'avevo visto anche io Però Attimo Dobbiamo andare su da qualche parte Non penso Passiamoci sotto Grandi Non è arrivato al ponte Oh Buongiorno Buongiorno Che miseria Maledetta Aiuto Corri 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 Wow Quanti colpi Quanti colpi Quanti colpi hai ancora Ci uccideranno Abbiamo forse altra scelta Saltiamo No no è troppo alto Non sai nuotare Ti aiuto a salire Corri di là Merda Merda Oddio Mi sarai a gallo Allì Non abbiamo tempo Allì Uh. Harry! È sveglio! Ehi, tu. Siamo vivi. Ok. Visto? Che ti ho detto, eh? Sta bene. Va tutto bene. Sai, è Sam che vi ha visto. Avete tirato su un bel po' d'acqua quando... Ma che cazzo vuoi? Ehi, no! Harry! Tutto ok? Mi stai indietro, tu! Ehi. È incazzato, ma non farà niente. E sei proprio sicuro? Basta! Joel! Ci ha lasciati là fuori a morire. No. Era probabile ce la faceste. Ed è stato così. Ma fossi tornato per voi, avrei messo in pericolo lui. Stai indietro! Se è stato il contrario, sareste tornati per noi. Ti ho salvato. Ha salvato anche me. Saremmo annegati. Tranquillo, piccoletto. Tutto ok. E per quanto valga, sono felice che vi abbia visti. La torre radio è dall'altra parte della scogliera. Ok? Il posto è pieno di provviste. Sarete felici di non avermi ucciso. Vabbè, se lo dici tu. Cerchiamo in questa zona. Vediamo cosa troviamo. D'accordo. Ragazzi, direi che ci dobbiamo fermare decisamente qua, che è un'altra di quelle puntate praticamente doppie. Sì, in effetti. È un pelino dall'essere doppie. Va bene, gente. Però è stata molto bella, devo dire. E iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. E lasciate un bel like a questo video se vi è piaciuto. E se vi sta piacendo la serie. D'accordo? A presto.